Se il Parlamento non approverà il piano Brexit negoziato da Theresa May con l'Europa, molto più probabile del no deal, che è una soluzione che non vogliono nemmeno i laboristi, sarà la permanenza del Regno Unito nell'Unione. Si tradirà quindi l'esito del referendum del 2016 e questo è il messaggio che la Premier sta mandando tramite i media ai deputati chiamati a esprimersi martedì sull'accordo e lo ripeterà in queste ore in una fabbrica di Stockholm Trent, città fortino dei pro-Brexit. Intervistato da Euronews, Sam Coates, editorialista del Times, come la maggior parte degli analisti politici, ritiene poco probabile l'approvazione dell'intesa, nonostante i numerosi sforzi di May. L'ennesimo tentativo sarà la diffusione in queste ore di una lettera da Bruxelles, in cui Londra riceve rassicurazioni sul mantenimento di una frontiera aperta fra la Britannica, Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, nel caso il Regno Unito uscisse dall'Unione senza accordo. E' il cosiddetto backstop, il tallone d'Achille del patto. L'Europa sta anche valutando l'eventuale posticipo da marzo a luglio del divorzio.